Le ripetizioni con mamma Chiara Ferragni e papà Fedez sono irresistibili. Le lezioni di inglese danno i loro frutti scrive ironico Fedez tra le storie Instagram, riprendendo il figlio Leone che non dimostra proprio una grande padronanza della lingua. In macchina ci sono anche Chiara Ferragni e la piccola Vittoria, che assiste incuriosita alle ripetizioni casalinghe del fratello. Come si dice in inglese Scoiattolo? Chiede il rapper. Scoiat risponde il primogenito senza pensarci. Poi è il momento di Chiara. Come si dice Uccello? Ucce il continua Leone. Ripreso dalla mamma? No. Si dice Bird. Bird. A quel punto il bambino ripete perfettamente, mentre Vittoria si mette le dita nel naso suscitando l'ilarità del papà, ma a quanto pare la materia va studiata un po' meglio. Scene di vita quotidiana divertentissime che abbondano sui profili social della coppia e che tra poco rivedremo su prime video. Nel 2023, infatti, uscirà Feferragnez 2. La serie sulla famiglia più social d'Italia. Chiara Ferragni e Fedez tornano dopo il successo della prima stagione. Per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi. Ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori. Accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo. Scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.